Marcello Magni è scomparso e Marco Varbello, giornalista corrispondente Rai da Londra, lo ricorda per noi. Il mio teatro, io lo chiamerei, si appoggia al corpo, io ho studiato come dell'arte, ho studiato il clown e è un teatro che vuole essere accessibile, vuole avere un contatto con il pubblico, vuole essere in complicità con il pubblico e al tempo stesso vogliamo rivelare qualcosa che ci sta toccando personalmente ora. Il teatro raccontato da Marcello Magni, semplicità e complicità con il pubblico. Un maestro che se n'è andato troppo presto, a 63 anni, ricordato dal quotidiano britannico Guardian con il titolo Il teatro di tutto il mondo, gli rende omaggio. Devo raccontarvi un piccolo segreto della mia vita. Un grande inscena, schivo nella vita, come il carattere delle sue terre bergamasche. Aveva lasciato presto l'Italia per studiare teatro fisico a Parigi con Jacques Lecoq. Per poi attraversare la maniche a Londra, fondare assieme a Simon McBurney nel 1983 la compagnia che ha rivoluzionato il modo di fare teatro contemporaneo. Complicità, appunto. Teatro fisico, devising e improvvisazione. Magni aveva portato l'eredità delle maschere, degli zanni e arlecchini e della commedia dell'arte. Poi l'ha chiamata da Peter Brook a una nuova avventura francese, spesso incrociandosi in scena con la moglie Catherine Hunter. Un artista italiano poco riconosciuto dal suo paese e acclamato in mezzo mondo senza perdere le proprie radici. Ero italiano, sono italiano e voglio non pretendere di essere inglese o francese. Ed è importante perché sono più vero. Grazie a Marco, a Marco Varbello che ha ricordato per noi Marcello Magni.